La minore extracomunitaria, persona intelligente, furba, di quella furbizia orientale delle sue origini, riesce a sfruttare la propria essere extracomunitaria. I genitori non riescono a gestire questa figlia, sono persone umili che non riescono a tenerla a freno, scappa in continuazione dalle comunità, viene affidata a delle famiglie, i genitori non ce la fanno perché sanno che ha in mente un solo e unico percorso. E sfrutta intelligentemente, lo vedremo poi nelle dichiarazioni, ovviamente menzognere, che sfrutta a proprio vantaggio l'essere straniera e l'essere figlia di musulmani. Cioè in un contesto sociale, in un realtà purtroppo, in Italia, dove l'integrazione non riesce ancora ad inglobare due culture diverse, quindi assistiamo a fatti di una gravità inaudita rispetto a persone, a ragazzi, a giovani, che vogliono non essere soffocati da una cultura di origine diversa da quella occidentale, ebbene invece la nostra minore riesce a sfruttare questa situazione. Viene presentata al segretario di Lelemora, però per farsi del male da sola, pur vivendo soltanto con questo sogno, da un numero dove lei non poteva essere rintracciata. Non ha una casa, vive di espedienti, si prostituisce, e gira. Prima in casa dei samarati, poi si fa ospitare da altri, poi abbiamo il primo periodo a Boschiera Borromeo, e di fatti abbiamo anche le celle che coprono quella zona. E quindi, è concludo, non si distiene che il diputato per alcuni, per il suo comportamento processuale, che ancora una volta non si è difeso nel processo, ma fuori al processo, per quanto è stato riferito nel corso della via di presidoria con gli elementi che stabiliscono dalla prima parte la torsione germana, è responsabile degli altri due reati che sono stati confessati. Ritenuta quindi la continuità normativa, tra l'articolo 317 Codice Penale, ante legge 190 del 2012, e l'articolo 319 quadro Codice Penale, in prodotto appunto dalla legge 190 del 2012, cittadino, riuniti i reati sotto il vincolo della condivazione, e il ritenuto più grave del delitto di cui ha scappato, lo corinato, agli anni 6 di retruzione, se chiede la botana, ad anni 6 di retruzione, così calcolato, ben a base da 5 per il reato di cui ha scappato, aumentata ad anni 3 per il reato di cui ha scappato. Grazie. 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 Grazie.